Previsioni meteo per mercoledì 13 febbraio. Al nord alta pressione, in ulteriore rinforzo, garanzia di tempo stabile e ben soleggiato su tutte le regioni con cieli generalmente sereni. Al centro alta pressione e bel tempo prevalente con cieli sereni temporanea variabilità sull'Abruzzo ma senza fenomeni. Al sud instabile su Adriatico e fascia ionica con piovaschi e nevicate fino a bassa quota, in prevalenza poco nuvoloso altrove. Venti tesi da est, mari generalmente molto mossi, temperature stabili al centro in calo altrove.